Italia 5 Stelle è sempre stata per tutti noi un evento particolare ed importante. Quest'anno però Italia 5 Stelle sarà speciale, sarà un'edizione unica. Quest'anno presenteremo il nostro candidato premier che insieme alla sua squadra di governo porterà avanti il programma che i cittadini hanno potuto votare online in queste settimane. Decidere insieme il programma e presentare il candidato premier prima delle elezioni politiche per noi non è solo un segno di rispetto nei confronti dei cittadini ma è la possibilità di condividere, partecipare, agire insieme. È l'essenza di una comunità che vive in democrazia. Vi aspettiamo dunque a Rimini, nella mia terra, pronta ad accogliervi come noi romagnoli sappiamo fare dal 22 al 24 settembre. Come sapete non riceviamo finanziamenti pubblici e ogni vostro contributo per realizzare Italia 5 Stelle è importantissimo e fondamentale. Grazie di cuore a tutti voi e ci vediamo a Rimini!